Sono proseguiti anche nel mese di agosto i controlli mirati da parte della Guardia di Finanza di Firenze nello storico mercato di San Lorenzo, che nel periodo ferragostano viene preso letteralmente d'assalto dai turisti. La Guardia di Finanza ha fotografato una situazione di illegalità diffusa non solo da parte di ambulanti irregolari che vendono merce contraffatta, ma anche da parte dei gestori dei banchi che in alcuni casi non rilasciano lo scontrino fiscale. Luis Vuitton, Gucci, Prada, Chanel sono questi i marchi degli oggetti contraffatti sequestrati dalle fiamme gialle. Per quanto riguarda il settore della contraffazione sono stati denunciati sei venditori ambulanti di origine extracomunitaria per possesso di circa 100 pezzi di merce contraffatta, quindi parliamo di accessori di moda e borse, e denunciati appunto per contraffazione e ricettazione. Sempre nel centralissimo mercato sono stati disposti accertamenti anche nei confronti dei gestori dei banchi per verificare la regolare emissione delle ricevute e degli scontrini fiscali, nonché sulle licenze di contratti di affitto. Dai controlli è emersa la mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali da parte dei gestori di 20 bancarelle.